Ciao a tutti, oggi vi faremo vedere un altro esercizio acrobatico in compagnia della mia mamma. Adesso ve lo facciamo vedere passo per passo. Cominciamo con gli esercizi di preparazione. Il primo esercizio da fare è stendere le gambe, posizionare le mani sotto le spalle e cercare di tenere questa posizione per qualche secondo. Il siderino deve essere bello forte, l'addome fortissimo. Bravissima, scende giù. Adesso facciamo insieme questo esercizio? Sì, vai. Pronta? Cerchiamo di essere entrando forte. Rimaniamo per qualche secondo. E giù. prossimo esercizio. Che qui la mamma fa addominale e lei comincia a prepararsi più verticale. sei. Sei pronta? Tieni forte l'addome. Vado. Uno. Facciamo un'altra due volte. Scendi. Tieni le corde l'addome. Due. Scendiamo. Ancora uno. Ok. Lontissima. Scendi. Adesso andiamo a fare il prossimo esercizio di preparazione. Tieni i verticali sulla testa. Appoggiati bene la testa. Rimani di fronte. All'inizio si può accompagnare. Piano piano stendi le gambe su. Tieni forte l'addome. Ok. Scendi piano. Perfetto. Andiamo ad affrontare gli esercizi insieme? Ok. Vai. Vai. Il primo. La prima approbazione che vi mostriamo è un po' più semplice. Metti su le gambine. E provo a fare come verticale sulla testa. Forte, forte le gambe. Stringi il sederino. E scendi piano giù. Ok. Adesso andiamo avanti con il secondo esercizio. La seconda fase. Appoggio una gamba. Tira su l'altra. La spaccata. E tisole in su. Scendi. Facciamo un po' più difficile? Vai. Vai. La spaccata. Con il cestino. Appoggi la gamba. Fai bene la spaccata. Tirati su. Piega bene la schiena. Piega le gambe. Con il cestino. Stendi. E piano piano scendi. Tra l'administra la schiena. Ok. Andiamo ad affrontare la prossima terza fase. Che è più difficile. Vai. Sei pronta? Solleva le gambe. Tira su. Vai. Le mani. Apri le gambe. Porta la mano su. La mia mano. Tendi bene, bene, bene le gambe. Tieni equilibrio. Chiudi le gambine. E scendi giù. La mano. Tu vuoi? Oh, già sei stata bravissima. Dammi 5. Vai. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale. E se volete lasciare un commentino, fatelo sulla mia pagina Instagram. Mi chiamo Gavrina con la K. Ciao.